e salve a tutti amici nefili ben trovati con questa nuova video recensione voglio parlarvi oggi voglio analizzare oggi velocissimamente i punti in tasca di marco bellocchio esordio fulgorante del 1965 esordio che segnò l'inizio nel mondo del cinema dei lungometraggi diciamo così di uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano marco bellocchio che a tuttora secondo me forse ad oggi anzi il più grande regista vivente e più grande registra in attività sono riduce proprio dalla visione di marx può aspettare recuperato in un video perché dalle mie parti non è arrivato documentario anche questo di una bellezza fuori 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 scala praticamente allora e li parleremo nel video conclusivo di questo 2021 di marx può aspettare probabilmente fuori vista perché è un documentario non mi occupo di documentari mi occupo di film ma però di fronte a un'opera di tale grandezza non posso che fare un passo indietro e cercare di dire la mia oggi parliamo di queste sorte fulgorante film arrabbiato film iconoclasta film dissagrante film antiborghese se ne sono dette di tutti i colori sui punti in tasca alcune etichette magari sono più attendibili altre un po sono invecchiate nel corso del tempo già l'etichetta film arrabbiato destò diverse questioni e fece discutere all'epoca proprio negli anni immediatamente successivi nei mesi immediatamente successivi all'uscita del film che fu rifiutato a venezia e fu e fu invece accolta a carna dove vinse anche un premio e poi con la cinevicina il suo secondo film bellocchio più considerato dopo il clamoroso successo il clamoroso consenso ottenuto da i punti in tasca 1965 dicevo suscitò qualche 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 riflessione qualche anche scambio di opinione epistolare tra pasolini e bellocchio le lettere dei due grandi maestri sono contenuti nel libro che è bello consistente e poteroso che è allegato all'edizione della Cineteca di Bologna dei punti in tasca in dvd edizione preziosissima che custodisco gelosamente anche se si tratta di un dvd ma è un dvd fatto con tutti i crismi Cineteca di Bologna cinema ritrovato sono cose che dovete assolutamente pedinare e assolutamente avere nelle vostre priorità perché ne vale la pena io spero di avere prima o poi qualcuno della Cineteca qualcuno nella di quell'ambiente lì come ospite nelle mie interviste del collezionista perché è davvero l'optimum che abbiamo in italia da questo punto di vista dicevo c'è lo scambio epistolare fra pasolini e bellocchio si parla del film lo si sviscera in tutte le sue questioni in tutte le sue dinamiche in parte quello che diremo adesso trae anche spunto da quello che dicono pasolini e bellocchio su questo film è un film arrabbiato serve a qualcosa la rabbia serve a qualcosa la provocazione per essere arrabbiati in realtà bisogna essere arrabbiati contro un potere forte e invece ne punghi in tasca diciamo la il protagonista alessandro si è arrabbiato ma è arrabbiato contro e ce l'ha e reagisce e si scontra violentemente con la madre con il fratello che sono leone che sono soggetti deboli invece la vera rabbia con quella che viene trascinata dalla contestazione dalla dall'ira dalla voglia di cambiare dalla voglia della spinta sovversiva in realtà dovrebbe essere indirizzata verso poteri forti quindi forse non è un cinema arrabbiato pasolino definì cinema di un capellone cioè di un regista che assomiglia un capellone cioè quindi il cinema della contestazione ma io preferisco più come etichetta forse banale ma che dice parecchio di questo film è il cinema della nevrosi cinema psicotico il cinema il cinema che riesce staccandosi dal neorealismo e staccandosi anche dalla nouvelle vague che sono i due grandi filoni amatissimi dalla autorrealità italiana degli anni 60 a intraprendere una retta strada che tiene conto assolutamente del neorealismo e della nouvelle vague ci mancherebbe anche se Antonioni e Truffaut dal buon bell'occhio sono all'epoca molto più amati di Rossellini e Godard per dire comunque prende una strada nuova una terza strada che viene inaugurata che viene battuta anche abbastanza nel cinema italiano autoriale e anche di genere degli anni 70 degli anni 80 poi scema un po bell'occhio stesso prende altri lidi prende altre strade bell'occhio mi piace come maestro assoluto come artista è uno dei più grandi artisti del novecento per la sua capacità di sperimentare linguaggi sempre nuovi per la capacità di saper parlare attraverso le immagini di cose che mai avremmo pensato di mettere che si potessero mettere le immagini usa le sue immagini usa le immagini di repertorio in modo psicoanalitico inconscio emotivo sentimentale affettivo esistenziale davvero in modo come nessun altro regista riesce a fare insomma marco bell'occhio è tra i sommi maestri del cinema italiano e il suo esordio appunto che lo si vogliamo chiamare arrabbiato o meno iconoclasto meno è nella forma rivoluzionario nei contenuti particolarissimo e di conseguenza è uno dei più incredibili esordi della storia del cinema sta insieme a ossessione di visconti sta insieme ai 400 colpi di true force insieme a fino all'ultimo lo spiritico d'asta insieme a ma anche ad altri registi molto vicino a bell'occhio penso a il ragazzo dei capelli verdi di joseph losei ecco certo cinema britannico quello di joseph losei ad esempio ma anche quello di di altri dell'epoca sono in qualche modo penso al film sabato sera domenica mattina c'è un certo filone precedente successivo a bell'occhio lo riescono a far a far riescono a farlo inquadrare meglio più che certi modelli pre confezionati pre costituiti predeterminati insieme a un altro grande esordio insieme ai riuscivo mon amour insieme a sesso bugie vitotape insieme all'age d'or di bunuel insieme al al lamento sul sentiero di satyaitra i sa insomma in quel gruppo lì in quel novero lì di grandi esordi che hanno segnato la storia dell'autore in questione ma anche la storia del cinema tukur credo che tutti quanti abbiamo visto i pugni in tasca film che non si doveva intitolare pugni in tasca sempre infatti in questo bellissimo volumone che ha legato al dvd c'è una bellissima intervista scusate la ripetizione dei superlativi ma se non li usiamo per marchio bell'occhio i superlativi non si capisce quando e come li dobbiamo usare per chi li dobbiamo usare c'è appunto la domanda sul cast ma che poi sfocia in delle riflessioni sul titolo il film si doveva intitolare epilessia perché l'epilessia è il centro del film tutto ciò che è disarmonico disfunzionale disorganico diseguale anormale ha a che fare con questo film e lo diremo tra poco poi in realtà si pensò di voler intitolare l'età verde dal famoso verso delle 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 ricordanze di leopardi no quello quel pezzetto della poesia che è legata anche al nativo borgo selvaggio che è un verso che in qualche modo rimanda anche a abbobbio che è il borgo dove è il villaggio il paesino in cui è ambientato fuori piacenza quindi in periferia nel nel profondo nord italiano è ambientata questa questa vicenda borghese piccolo borghese che destabilizzò non poco le coscienze dell'epoca ecco perché forse è arrabbiato ma anche se poi come fa notare pasolini mi sembra un conto è la rabbia cioè la rabbia veicolata in questo modo e sbattuta in faccia alla borghesia a chi serve cambia veramente le cose cambia veramente le cose ci sono quei borghesi che intellettuali aperti illuminati che vogliono che sì che ci siano artisti iconoclasti di questo tipo sovversivi dissacranti come come appunto è bell'occhio quasi per quasi per un senso di colpa che hanno per essere troppo ricchi per essere troppo 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 per avere avuto successo no e quindi quasi per espiare il loro attaccamento ai beni materiali hanno bisogno che l'arte in qualche modo li condanni in quel modo lì e poi ci sono quei borghesi invece che se ne infischiano altamente che condanneranno sempre espressione artistica del genere quindi serve veramente a qualcosa un film un cinema del genere può cambiare veramente la società e il mondo un cinema del genere ci chiediamo si chiedevano pasolini e bell'occhio negli anni 60 ci chiediamo ancora ancora noi oggi 60 anni dopo in parte sì in parte no però ci deve essere comunque possiamo dare tutte le risposte sono tutte in qualche modo legittime poi un altro titolo che forse doveva avere il film era igiene familiare poi si arrivò appunto a i pugni in tasca che fecero notare tempo dopo a bell'occhio quando il film era già uscito quando il titolo era stato già quindi deciso fecero notare a bell'occhio che era comunque anche i pugni in tasca un verso cioè era già stato utilizzato questa espressione era stata già utilizzata ma bell'occhio ammette di non saperlo lo fece all'epoca diede questo titolo senza saperlo questa espressione poi tornerà anche negli occhi e la bocca quando michelle piccoli al nipote luca stel che interpreta proprio alessandro che è il protagonista dei pugni in tasca benissimo peraltro anche se è doppiato comunque è una faccia un volto che non dimenticheremo mai ovviamente e questo gesto adesso lo commentiamo questo gesto qui lo commentiamo uno dei più grandi famosi gesti della storia del cinema italiano e non solo torna luca stel e michelle piccolini dice ora basta finiscerà con quei pugni in tasca e quindi diciamo che l'universo bell'occhiano si autoalimenta l'universo cinematografico bell'occhiano si autoalimenta e non è questo solamente il caso perché bell'occhio usa spezzoni dei suoi film spesso per andare avanti con 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 il suo cinema e con le sue riflessioni nel documentario marx può aspettare ci sono comunque spezzoni di questa prima stagione giovanile ed è normale visto il tema del documentario marx può aspettare il suicidio la pazzia eccetera anche se questo esordio ancora non ha dietro certe tragedie che poi marco bell'occhio vivrà in famiglia allora a roma bell'occhio realizza questo dopo al centro sperimentale dopo l'esperienza a londra anche attenzione dopo l'esperienza a londra anche perché nel centro sperimentale bell'occhio esce nel 62 nel centro sperimentale vi ha realizzato già due barra tre cortometraggi peraltro cortometraggi che trovate la colpa e la pena basso il zio e ginepro fatto uomo del 62 li trovate tra i contenuti extra del dvd dell'edizione della generale bologna quindi in realtà con un fava beccate quattro piccioni cioè il film e i tre documentari realizzati praticamente durante gli anni del centro sperimentale da marco bell'occhio che poi vuole studiare a londra studia a londra e quindi si in qualche modo impregna il suo cinema delle tematiche delle ossessioni delle delle questioni legate al free cinema inglese ok quindi quando arriva a fare a girare a girare i punti in tasca è insomma un regista molto ben strutturato e formato ha delle idee di cinema fulgoranti che però saranno ulteriormente enfatizzate da alcuni fattori anche diciamo così fortuiti dell'epoca e cioè il montaggio al montaggio c'è aurelio mangiarotti cioè silvano agosti che ha delle intuizioni importantissime in serie di montaggio che non erano state pensate studiate precedentemente ma che sono appunto ottenute nel montaggio una di queste diciamo dubbi la più importante che è veramente per uno come me che poi è anche affascinato e molto interessato dalle questioni che si riescono ad ottenere con il montaggio la morte del protagonista la morte di alessandro che ha ottenuto mediante un fermo immagine che ha ottenuto mediante durante gli spasmi epilettici che questo personaggio ha nella scena finale sotto le note della sulle note della traviata e a questo punto un bravo critico quale io non sono si dovrebbe ricordare a memoria l'aria della traviata che alessandro sta cantando mentre di là la sorella giulia è a letto dopo aver commesso il suo secondo delitto cioè aver ammazzato leone ce l'avevo da qualche parte scritta l'aria della traviata ma me la sono dimenticata forse qui forse qui oddio 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 si sente questa musica travolgente della traviata ok che però che ha a che fare con la con la vitalità col vitalismo ecco sempre libera degio folleggiar di gioia in gioia ecco è la è l'aria della traviata cantata e sparata a tutto volume durante l'attacco epilettico fatale epilettico fatale benissimo diciamo che alessandro muore di montaggio muore di montaggio col fermo immagine con una inquadratura che viene tenuta oltre il dovuto con la musica che lì viene dilatata oltre il dovuto e oltre l'umana concezione oltre quello che è umanamente possibile quindi viene anche un po distorto alterato il tessuto realizzativo dell'aria della traviata e c'è quindi quel momento di grandissimo cinema mentre giulia per due volte vuole andare poi tentenna e rimane a letto rimane quindi a far morire il fratello come si presuppone che il fratello avesse indugiato a soccorrerla aspettando che morisse quando giulia cade appunto dalle scale qualche scena prima qualche momento prima qualche sequenza prima nel film o e quindi il montaggio di fatto è pieno di queste trovate efficaci che poi enfatizzano anche quella ripetitività che nel film ci deve essere perché il film riflette molto sulla ritualità della famiglia borghese il pranzo il lavoro leggere il giornale alla madre non vedente eccetera e quindi un film che vuole attaccare che vuole smontare che vuole criticare questo tipo di rito assolutamente anacronistico fastidioso opprimente opprimente per un membro della famiglia che è stritolato in qualche modo anche dalla morale cattolica che all'interno della famiglia la madre tiene viva oltremodo e questo diciamo si intravede un riferimento autobiografico alla condizione familiare di Marco Bellocchio grande maestro il più grande registro del cinema italiano attualmente in circolazione attualmente in attività viva dio premiato a Cannes me lo sono dimenticato alla carriera lo scorso luglio quindi questo è l'anno di Bellocchio senza ombre dubbio quindi alla fine dell'anno ne parleremo ancora ci mancherebbe e quindi dicevo un film del genere che attacca poi le istituzioni dell'italia dell'epoca non solo dell'italia quindi la religione la famiglia il lavoro la concezione borghese della famiglia della casa non può con lo stile non in qualche modo supportare questo tipo di questo tipo di riflessione quindi lo stile è pieno e le scene le sequenze del film il montaggio ci ripropone delle ripetizioni no enfatizza le ripetizioni come la ripetizione che fa alessandro anche questa non prevista in sede di storyboard altra cosa importante che trovate su questo libro sono gli storyboard del film soprattutto quelli sono interessanti quelli cancellati da Bellocchio sono interessanti quelli tolti da Marco Bellocchio non rispettati da Marco Bellocchio perché poi sul set in ottemperanza poi alla tradizione italiana a quello che facevano Bertolucci eccetera cioè il set deve essere un luogo dove sperimentare in un certo qual modo non si arriva in modo iccocchiano avendo tutto concepito e tutto prestabilito sul set ecco il gesto che fanno durante il primo il primo pranzo tutti insieme il gesto che fa alessandro di buttarsi indietro con la sedia con la mano e poi di ritornare a posto e poi buttarsi indietro con la mano e poi ritornare a posto inquadrato di profilo e anche l'asse di inquadratura in qualche modo enfatizza questo gesto che diventa inquietante che mette a disagio nella sua ripetizione nella sua nella sua ossessiva compulsiva mania di rifarlo allo stesso modo e poi c'è appunto il gesto anche questo inquadrato di profilo anche questo magistralmente concepito da Marco Bellocchio che sembra un gesto infantile perché poi l'altro aspetto non è solo quello della ritualità borghese ma anche di un infantilismo procrastinato all'inverosimile a tal punto che poi diventa una gabbia diventa una gabbia mentale diventa un'ossessione diventa una malattia diventa in qualche modo anch'esso specchio di un immobilismo che non è solo quello esistenziale che inquieta che fa star male il soggetto cioè alessandro in questo caso che in gabbia fa star male anche augusto cioè l'unico dei fratelli normali ma è proprio una caratteristica della società italiana è una caratteristica degli anni 60 italiani è una caratteristica del secondo dopoguerre italiano l'immobilismo e quindi è vero che questo film rifiuta non parla di politica non parla di boom economico non parla di questioni sociali rimane legato molto spesso a case ambienti chiusi ambienti domestici però in realtà fotografa magistralmente un sostrato culturale antropologico italiano questo modo di rimanere sempre bambini che è una questione che ci portiamo appresso e che ci penalizza come società e come storia e l'abbiamo affrontata e la stiamo affrontando perché non abbiamo finito la riflessione su federico fellini la stiamo affrontando anche nel cinema di federico fellini questa questione quindi la locomotiva o la pernacchia o questo questo gesto infantile che viene ripetuto ed enfatizzato dall'inquadratura di profilo ci dimostra chiaramente che alessandro appartiene a questo tipo di italiana natura è espressione di una natura italica fortemente ancorata a queste zavorre che impediscono di crescere come sono la famiglia come sono la religione anche la scuola se vogliamo se pensiamo cioè è veramente cioè ci sono poche scene ma tutte quante di estreme e figace se pensiamo alla scena in cui alessandro che tiene delle ripetizioni private che cosa fa alessandro cerca di falsificare la pagella del suo del suo scolaretto no e quindi con i tre che diventano otto mentre lo manda fuori a guardare giulia come prende il sole e lì si intravede come oltre all'infantilismo c'è anche la perversione la perversione rimossa di un fratello e anzi di una famiglia che in cui serpeggiano atteggiamenti e pulsioni incestuose anche se non viene mai esplicitato questo questo tema in modo proprio chiaro però si vede chiaramente anzi forse è la dichiarazione d'apertura del film dove giulia ha scritto questa lettera falsa per ingabbiare il fratello per impedire al fratello di convolare a giuste nozze dove c'è anche la madre castrante se vogliamo verso i figli tant'è vero che come si chiama la fidanzata di la fidanzata di augusto lucia entra in casa almeno diciamo che c'è una scena in cui lei in casa perché prima non l'abbiamo mai vista quindi non sappiamo cioè non l'abbiamo mai vista nella casa di augusto quindi non sappiamo se i due hanno fidanzati in casa quando c'è il funerale della madre quindi solo con la fine del dispotismo della madre interpretato da Diana Gerace peraltro peraltro faccio notare che molti degli attori e molti dei tecnici che lavorano nel film sono amici di bellocchio vengono fuori dal centro sperimentale frequentato negli anni insieme a marco bellocchio in quegli anni insieme a marco bellocchio quindi c'è proprio e questa cosa marco bellocchio sarà portata molto avanti a bobbio lui ha tenuto e tiene seminari sul cinema lavora con i suoi ragazzi lavora con i suoi studenti a molti alcuni di suoi film sono nati proprio da questi tipi di collaborazioni penso a sangue del mio sangue ad esempio quindi bellocchio anche da questo punto di vista anche come maestro di cinema per le nuove generazioni è davvero un genio è davvero un grande è davvero un gigante della nostra storia ed è forse mamma mia più lo studio più lo analizzo vi consiglio anche quest'altro libro marco bellocchio il cinema di film a cura di adriana pra che è un po vecchiotto perché penso sia del 2002 2003 e trovate qui dentro lo stesso saggio di monreale che trovate qui quindi in realtà sui punti in tasca dicevo e quindi dicevo c'è questa sorta di come possiamo chiamarla c'è questa sorta di presenza castrante della madre c'è questa sorta di rimosso c'è questa sorta di inconscia pulsione incestuosa che lega i fratelli giulia verso augusto ma anche alessandro in qualche modo si sente di dover attratto da giulia e in modo perverso e in modo anche infantile utilizza un bambino innocente per soddisfare magari qualche pruriginoso desiderio anche se non dichiarato e mentre sta falsificando la pagella quindi non solo in una sola scena fatta di montaggi ben montaggio ben assestato due ambienti solamente stanze balcone dal balcone poi vediamo le montagne che ingabbiano che tengono chiusa la casa di del paese di bobbio in cui questa famiglia sta in qualche modo disfunzionando il balcone e le finestre che sono luoghi dei quali si entra e si esce in modo inopportuno in questa casa continuamente più che dalle porte quindi si fa un uso anche improprio della casa come struttura architettonica anche questo va studiato oppure si fa fatica a entrare nelle porte oppure si fa fatica si fa prima si finge di fare a nascondino come fa sempre alessandro prima di entrare nella casa nella camera nella stanza dove c'è la madre prima di leggere la gazzetta non sappiamo neanche ancora c'è la madre quindi la scena è studiata con delle inquadrature sapienti perché la prima inquadratura che introduce la sequenza è proprio inquietante dove vediamo dall'alto alessandro che cerca di aprire la porta che sta aprendo la porta poi si affaccia solamente lui poi entra e comincia quella quella discussione con la madre che è importantissima e della quale anche anche di questa voglio parlare voglio approfondire un aspetto dicevo tornando alla scena della paggela falsificata quindi c'è se vogliamo l'ambiente circostante che diventa opprimente nativo borgo selvaggio c'è la sorella che prende il sole con le gambe scoperte e che dovrebbe suscitare in qualche modo dei desideri pruriginosi nei confronti anche nel fratello il quale fratello sta falsificando una pagella e utilizzando per un gioco abbastanza perverso e stupido un bambino tra virgolette innocente anche se poi abbiamo visto che questi bambini quando fanno i chirighetti nel film non è che si comportano in modo rispettoso e sono però danno quella dose di follia che a bell'occhio piace molto sottolineare chiedo scusa quindi dicevamo questa già folgorante scena ci mostra chiaramente come nonostante gli spazi angusti nonostante scenografie non costose nonostante i mezzi non sono stati eclatanti ricordiamoci che bell'occhio se l'è quasi autofinanziato questo film alla fine sfruttando anche l'eredità del padre che era morto di cancro quando lui aveva 17 anni o comunque sfruttando anche un amico facoltoso insomma alla fine è un film indipendente questo il punto in tasca anche se bell'occhio stesso ammette un film indipendente però per il quale abbiamo avuto una rispettura economica maggiore rispetto a quella di molti film indipendenti altrui o di oggi quindi bell'occhio nelle sue dichiarazioni sembra molto onesto intellettualmente non è che si vanta non è che si vuole non è che vuole auto elogiarsi oltre il dovuto ecco questo è sempre fondamentale sempre onesto corretto nei confronti anche di chi ha fatto e ha dovuto fare più sforzi di lui che comunque voglio dire viene da famiglia importante erano mi sembra otto figli c'è camillo morto suicida lo sappiamo cioè a fine bell'occhio erano riusciti a far fruttare al meglio l'eredità paterna con il fratello maggiore che ha aperto i quaderni piacentini con l'altro fratello che è sindacalista impegnato in politica insomma una famiglia che è importante per il tessuto certo non come visconti però certamente importante per il tessuto sociale italiano famiglia importante situazione importante bell'occhio realizza un film se vogliamo che va in qualche modo anche a però affondare il coltello nel corpo diciamo così decadente perché c'è anche questo aspetto decadente che non dobbiamo dimenticare della società borghese italiana della classe borghese italiana alessandro è anche animato da queste spinte d'annunziane perché la repulsione nei confronti della madre nei confronti del fratello nascono anche come è stato detto giustamente secondo me nascono anche da questa sorta di presunta superiorità presunto gusto presunta dignità che alessandro si riconosce che invece nella madre ormai non vedente e che quindi nell'aspetto non è più piacevole e anche in leone che è malato fortemente malato di mente diciamo in augusto c'è in alessandro c'è questa sorta di atteggiamento decadente ma alessandro è affascinante come personaggio perché è un personaggio contraddittorio è un personaggio contraddittorio perché allo stesso tempo è legato alla madre che però lo asfissia lo 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 in qualche modo lo opprime e a questo proposito io faccio vedere un quadro dipinto da bellocchio stesso in quegli anni lì perché bellocchio in qualche modo prima di diventare regista non solo entra al centro sperimentale come attore ma tenta anche la strada della pittura e dipinge 30 40 tele attenzione questa è una di quelle attenzione questa è una di quelle e vediamo appunto la figura materna portatrice di un handicap sta sulla sede rotelle quindi non è cieca ma c'ha un handicap e poi c'è il figlio presumibilmente è vero che sembra affettosamente adagiato sul ventre materno ma se ci facciamo caso la posizione della faccia del viso del figlio è a 90 gradi quindi diciamo che c'è molto sforzo molto disagio non c'è una posizione assolutamente scomoda quasi mortale e quindi una madre che accudisce però al suo tempo stritola e uccide se così vogliamo dire e abbiamo presumibilmente gli altri componenti della famiglia forse gli altri fratelli peraltro due maschi e una femmina quindi in totale sono quattro figli come quelli dei lunghi tasca lì ad assistere a questo sacrificio a questo gesto di affetto ma allo stesso tempo gesto di violenza quindi in qualche modo alessandro si sente sia dalla società perseguitato e stromesso condannato anche perché epilettico e quindi emarginato sia dalla madre troppo accudito troppo tenuto ti do la caramella troppo trattato come un bambino quindi la sua emancipazione come uomo la soffermazione come persona la sua crescita per diventare adulto responsabile vengono in qualche modo stritolate schiacciate sia dal contesto in cui vive sia lui che vorrebbe intraprendere un'attività improprio vuole acquistare cincilla ma non ha i soldi vuole prendere la patente ma viene bocciato per un errore quindi c'è sempre qualcosa che non va e poi l'automobile diventa fondamentale nella prima parte del film lui che si sente in qualche modo e lo capiamo perché poi quando muoiono quando vengono meno le zavorre che sono la madre e il fratello allora si sente addirittura libero di baciare lucia in quel gesto un po eccessivo animalesco che compie quasi che avesse rimosso le catene che lo ingabbiano in qualche modo durante il film le catene che lo che lo tengono stretto e manca quasi il respiro durante il film lui che vorrebbe in realtà immolarsi e compiere la sua il suo gesto i suoi gesti delittuosi e violenti vuole uccidere la madre vuole uccidere leone per liberare augusto augusto che l'unico normale di questi quattro di questi quattro fratelli l'unico che ha una carriera è un avvocato peraltro è importante il fatto che appunto il nome avvocato in qualche modo compaia sulla targa sono importanti queste targhe queste incisioni queste scritte a cui dobbiamo prestare sempre grande attenzione nel corso del film vedere quanto compaiono perché il film gioca molto anche sulle scenografie è un film che esalta l'inventiva e la creatività di marco bellocchio pensiamo anche alle a tutti gli stemmi ai quadri che compaiono nel film ai piatti appesi alle pareti c'è una scena in cui questi piatti formano quasi una sorta di aureola in modo quasi antifrastico e dissagrante nei confronti di alessandro considerato quasi un santo forse la ritrovo quella immagine e ve la faccio e ve la faccio vedere ci sono i fiori bianchi che compaiono più volte ce le ha anche in mano la madre quando praticamente sta per essere uccisa eccola qui appunto sembra quasi che ci sia una aureola dietro alessandro ci sono queste immagini dei parenti trapassati nei quali spesso ci si specchia nei quali spesso ci si perde nella cui immagine che stanno lì ad osservare testimoni spietati impietosi le sciagure di questa famiglia venuta giunta a un momento cruciale della propria esistenza che quindi si avvia verso il tracollo verso l'implosione dovuta certamente anche a frustrazioni inquietudini a lungo presenti che adesso esplodono e ci fanno vedere quello che adesso ne abbiamo marco bellocchio che conosceva bene questo tipo di oppressione repressione manipolazione psicologica dall'alto che poteva venire dalla morale cattolica poteva venire dalla chiesa che poteva un ambiente poteva venire da un ambiente estremamente conservatore estremamente chiuso estremamente razionale lui che ha frequentato il collegio eletto dei barnabiti lui che si è iscritto alla facoltà di filosofia all'università della cattolica del suo cuore lui che in qualche modo ha studiato a piacenza dai fratelli delle scuole cristiane lui che insomma ha sin da piccolo avuto in modo di sperimentare e di fare questo tipo di esperienze le riporta su schermo e quindi in qualche modo i suoi film servono anche a esorcizzare oltre che a manifestare il suo rapporto con queste realtà e con queste istituzioni che lui destruttura in modo così efficace e sapiente ma dicevamo c'è insomma il piano quasi mefistofelico di alessandro che vuole liberarsi delle zavorre della famiglia in qualche modo non gli dispiacerebbe neanche liberarsi di giulia che ha un rapporto col fratello assolutamente castrante vincolante c'è quella famosa scena dove dove i due stanno parlando e giulia manifesta la sua avversione nei confronti del matrimonio e quella scena poi viene viene vista spiare ad alessandro attraverso le incisioni e le smirigliature della di una di una vetrata altra cosa importante è che appunto che questa non ho letto da nessuna parte quindi mi è sembrato strano che questi nomi in qualche modo richiamano l'ambiente cattolico l'ambiente della chiesa sfistiante perché alessandro leone giulia sono tre nomi ora al maschile ovviamente giulio sono tre nomi di papi famosi importanti anzi di più papi che si sono succeduti nel corso della storia alessandro leone giulio non sto qui certamente ricordati io sono andato a ricontrollarmi la lista di tutti i papi e non ho visto nessun papa forse ho sbagliato che si chiama augusto quindi in realtà l'unica figura normale dei quattro guardate caso si chiama con un nome che non è legato alle autorità ecclesiastiche cattoliche del papato io non ho trovato nella lista dei papi che sono andato a controllare nessun papa che si chiama augusto ma liberissimo di essere smentito ditemelo nei commenti se c'è qualche papa che si è chiamato augusto che è un'autorità ovviamente civile imperiale importante ma non religiosa ma non legata al papa a differenza di alessandro leone giulio coincidenza ma non lo so forse è una cosa inconscia che il buon marco bellocchio ha inserito nel film senza abbatacci più di tanto però sta di fatto augusto rappresenta appunto l'avvocato che si sta costruendo una famiglia che appunto è fidanzato però anche una prostituta quindi come prevede la morale gretta e borghese dell'epoca alla quale lui si sta adeguando quindi in realtà notiamo che questo film è fortemente problematico perché è vero che da una parte propone la malattia la disfunzione la anormalità all'interno di questa classe sociale che è in qualche modo ingolfata in qualche modo irrigidita all'interno degli anni sessanta italiani è verissimo però l'alternativa a questa anormalità è l'adesione fredda passiva e quasi pedisse qua ad una morale abbastanza gretta e anonima e grigia qual è quella di augusto quindi in realtà non c'è una una vera salvezza per questo mondo che sembra in qualche modo condannato o a fallire e a impazzire a implodere oppure ad adeguarsi a qualcosa di precostituito e qualcosa di realizzato già preconfezionato persino dove persino gli istinti come possono essere quelli fisici e carnali sono in realtà dovuti veicolati e incanalati in una sorta di diciamo così cliché che è quello di avere appunto una la prostituta dalla quale ci si rega dalla quale ci si rega tre quattro volte al mese in modo molto metodico in modo molto meccanico come se fosse un dato di fatto come se fosse un dato scontato e quindi c'è da parte di augusto ormai l'adesione convinta a questo modo di pensare e c'è quell'opportunismo c'è quel c'è quel tipo di egoismo che è tipico di una certa borghesia italiana la peggiore d'europa che non ha invece senso di responsabilità intraprendenza voglia di crescere voglia di diventare in qualche modo di rispettare anche le regole ma di incubirsi in una in una gretta e chiusa in qualche modo realtà molto diciamo così autoreferenziale notiamo il rapporto che c'è con lucia che è un rapporto già scritto se vogliamo dove alla donna non viene lasciato spazio da questo tipo di mentalità la si tradisce senza senza porsi più di tanto problemi le si chiedono cose l'elle deve fare certo con un modo di fare untuoso viscito però che già inquieta non poco e quindi questo ammorbante universo cattolico che opprime la famiglia da sempre ben poi si declina e poi ben sfocia porta con lucia all'adesione a degli schemi precostituiti da parte di augusto che sembra l'unico normale ma dove normale per normale si intende qualcosa di grigio di asfittico e di altrettanto ingabbiante come appunto la morale cattolica e quindi anche da questo punto di vista marco bellocchio riesce a mostrare quel mondo piccolo borghese diciamo così nazionale ecco pur facendo un film che è sempre sempre estremamente locale ecco sempre estremamente circoscritto e questa serenità piccolo borghese è diventato un totem in nome del quale si è disposti a qualsiasi sacrificio e avevo anticipato il discorso del verticalismo della verticalità questa casa che sta a strapiombo in qualche modo si vede si suggerisce il senso del verticalismo perché si sta al piano di sopra si vedono le montagne e questo senso di verticalismo è fondamentale perché segna proprio la minaccia che incombe sulla casa il piano iniziale che alessandro vuole portare a termine è quello di andare con la macchina fuori pista e togliere tutti di mezzo poi in realtà la competizione infantile che nasce con un'altra vettura fa dimenticare ad alessandro il suo proposito di omicidio suicidio che poi invece viene portato avanti dopo in un secondo momento faccio notare che durante questo primo tentativo la lettera che dovrebbe essere allarmante viene viene accolta da augusto con assoluta non scialanza lui quasi quasi non si preoccupa aspetta attenti si addormenta e quindi poi lucia rimane addirittura essere fatta vedendo il comportamento del fratello ma al di là di questo poi c'è il momento cruciale dell'omicidio della madre e questa è appunto pulsione inconscia nevrotica psicotica decadente borghese infatti c'è ne meglio nella sua recensione dice io al sud essendo timatrice contadina non avrei mai immaginato di uccidere mia madre e questo gesto doveva essere l'inizio molto più se vogliamo didascalico con alessandro che spingeva la madre dopo averli ci giocato insieme ed era approfittato in modo infantile della sua cicità la spingeva con un dito e poi quel dito solo succhiava questo era presente negli storyboard del film poi in realtà la scena fu montata in modo diverso fu realizzata in modo diverso e montata in modo diverso con l'ellisse con il di fatto la caduta che noi non vediamo con il gesto che è leggero ma presente quindi è più contraddittore più ambivalente più ambiguo e col montaggio che poi ci riporta subito al verticalismo e alla tragedia compiuta è un gesto certamente di affetto e di violenza insieme se vogliamo come peraltro quello del nei confronti di leone sta facendo il bagno quindi ho preparato il bagno con un gesto di affetto però faccio violenza però prima di affogarlo c'è il discorso di sedarlo con per non fargli insomma sentire dolore o cose del genere però lo si accarezza la spinta è quasi una carezza se vogliamo nella vasca da bagno piena d'acqua da parte di questo alessandro che nella sua follia mantiene comunque una lucidità che spaventa è un personaggio che spaventa senza dubbio perché 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 si confronta con i nervi scoperti delle nostre nevrosi anche di quelle collettive della classe borghese con questi giochi che fa poi molti infantili sulla bara della madre durante la veglia funebre e quindi con una sorta di anche appunto ripeto ludica e forzennata mania che mai si placa e mai e mai si arresta se non appunto con la morte ecco perché la morte poi era necessaria non bastava l'attacco epilettico che andava ad enfatizzare la sua mania e la sua ira e la sua perversione e la sua il suo iperattivismo e quindi c'era bisogno anche della dell'esito inevitabile inutabile tragico di questa figura che però non è un esito che non è di tascalico perché il film rifiuta qualsiasi retorica qualsiasi atteggiamento manicheo o semplificatore eccessivo vuole invece rappresentare una realtà che è viva grazie alla sua complessa stratificazione se pensiamo che la sorella per esempio con le immagini che ha la sorella santi e marlon brando di cui riempie la sua la parete di casa sua se pensiamo poi alla anche al discorso delle riviste morta la madre si fa questo grande falò con tutto ciò che era partito dalla madre anche alla alla rivista cattolica che la madre leggeva sulla famiglia insomma che la madre leggeva si sostituisce topolino no perché poi quando si fa vedere l'altra rivista la si inquadra è quella di topolino che stanno leggendo perché ormai non c'è più la madre come catena come vincolo come come asfissiante presenza di conseguenza si legge si legge altro anche se in qualche modo augusto voleva conservare quella rivista ma per motivi opportunistici per trarre qualche vantaggio quindi per concludere questa recensione che alla fine è diventata un po più faticosa del previsto perché sono stato introdotto più volte vi chiedo scusa possiamo dire appunto che dentro proprio le pieghe di questo meraviglioso esordio della storia del cinema questo penso capolavoro cioè penso che sia fuori di dubbio che lo possiamo considerare tale capolavoro della storia del cinema per quanto mi riguarda lo è un capolavoro sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista estetico proprio cinematografico se consideriamo proprio l'ambito degli esordi il modo in cui è stato realizzato l'importanza che ha avuto per un certo cinema italiano e non solo dell'epoca per i tipi di collegamenti che crea con altre cinematografie non scontate eccetera quello che possiamo dire alla fine che si tratta di un'opera assolutamente moderna assolutamente disturbante pista ancora oggi e piena di scene matri che in qualche modo fa è bello pensare che sono state appunto create all'italia mi viene da dire all'italiana chi ha visto di voi la monografia che ho dedicato a bernardo bertolucci qualche anno fa capisce cosa voglio dire cioè arrivare sul set e non sapere cosa 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 cioè non aver previsto tutto ma lasciare in qualche modo far vibrare il set di cose particolari impreviste nuove penso ad esempio sempre alla famosa scena della del primo pranzo che vediamo nel film che il primo momento in cui vediamo tutto e tutti i presenti c'è il rito del gatto che si presenta più volte viene totto più volte dalla tavola ci sono i primi avvisaglie di questo accreti nei confronti della madre che compaiono poi verranno incentivati nella famosa scena della la gazzetta in cui il ragazzo alessandro fa finge di dare gli schiaffi alla madre poi gli si comunque alla fine della scena dopo giochi vari inganni vari che parlano di matricidio quando finge di leggere quelle notizie sulla gazzetta e quindi anticipano già quello che sarà l'esito tra i due madre e figlia dicevo se mi si picherà sul ventre come appunto il quadro che che vi ho fatto vedere e quindi in qualche modo c'è questa scena del figlio sul ventre della madre seduta e portatrice di un handicap dicevo in questa scena del pranzo la sequenza in cui giulia tira i piedi al fratello quasi facendolo cadere dopo che è stata da lui disturbata in qualche modo fu improvvisata sul set non era stata prevista in sede di storyboard e anzi vi dico questo per concludere come bellocchio in sede di preparazione del film avesse voluto a enfatizzare gli aspetti grotteschi il dito con cui spinge la madre e poi solo succhia dei giochi sotto il tavolo abbia voluto enfatizzare aspetti grotteschi poi questi aspetti grotteschi arrivati sul set si è capito che in qualche modo devono essere limati devono essere tolti devono essere aggiustati cioè bisognava aggiustare il tiro il tono forse era quello sbagliato anche per questo motivo si tratta di un'opera gigante perché è un'opera nella quale il set ha parlato in qualche modo oltre che poi il montaggio ha detto altre cose in aggiunta e per me è un film del genere cioè che in ogni fase della sua realizzazione cresce di significato e di importanza e di valore per me è un film gli esempi di grandissimo cinema c'è poco da fare sì è grandissimo cinema anche quello che nasce a tavolino da quelli che in preproduzione hanno scritto e realizzato tutto è vero e quindi ciò che diceva anche se lo dirige un altro non fa niente è tutto già stabilito io mi annoio sul set e ci può stare questa dichiarazione di poetica e di intenti ma è altrettanto grande secondo me il cinema che ad ogni momento della sua realizzazione sceneggiatura preproduzione produzione post produzione aumenta di significato perché tutte le varie personalità artistiche che contribuiscono al film in qualche modo dicono la cosa giusta fanno la cosa giusta al momento giusto perché sono in sintonia c'è un'alchimia con l'opera che sta a parlare mentre viene realizzata ai suoi stessi realizzatori e quindi questa osmosi meravigliosa e questa simbiosi meravigliosa che si crea con l'opera determina che poi il film pensato come film diventi già al suo alla sua prima visione alla sua prima uscita un'opera gigantesca che lascia senza fiato io ho veramente finito qui tante cose ho detto ma tante altre ce n'erano ancora da dire però mi va di fermarmi perché non voglio che questo video duri troppo forse è durato già tanto non lo so perché sono stato indirlo tante volte e ho perso il conto del minutaggio perdonatemi comunque sta di fatto che di bell'occhio continueremo a parlare ci mancherebbe con altri suoi film che reputo importanti magari uno per decenni poi ci facciamo una retrospettiva piano piano insomma li facciamo tutti i film di bell'occhio credo non lo so mi va di dire questa cosa però di fare questa promessa appena avrò snellito una delle filmografie che sono in atto perché comunque sono diverse che sono in corso e mi fa piacere che ci siano così tanti discorsi iniziati mi raccomando andatevi a recuperare tutti gli altri video sul mio canale non fermarmi solamente qui ricordatevi di iscrivervi al canale gli analytics parlano chiaro gli analytics mi dicono che la metà delle persone che vedono i miei video non è iscritta al mio canale questa è una cosa gravissima dovete rimediare assolutamente dovete iscrivervi al canale e dovete rimanere aggiornati attivando la campanella delle notifiche ricordatevi che proprio in questi giorni sul sito white noses sul canale white noses trovate anche la mia recensione di qualità della prodotto silenziosa di walter hill quindi andate anche su quel canale iscrivetevi anche lì perché io federico frusciante il prodotto del cinema e tanti altri parliamo di cose interessanti nel mondo dell'arte non solamente del cinema quindi andate anche su white noses iscrivetevi insomma leggete quarta parete il blog a cui sono molto legato seguite il podcast di blue up a cui sono molto legato con i miei amici e cercherò proprio di coinvolgere quante più persone possibili per fare delle dirette nel mese di dicembre ne ho un paio in mente importantissime ve le annuncio già adesso perché non credo che a novembre riuscirò a fare altre dirette però a dicembre ne farò almeno due sicuramente oltre eventuali interviste se uscirà l'occasione se si presenterà l'occasione però certamente farò due approfondimenti importanti la prima su queste storie di spielberg sul musical e farò una recensione di queste storie di robert weiss prima di quella diretta per poter parlare il meno possibile in quella sede in quella sede quindi queste storie di robert weiss presto sarà recensito su questo canale per me uno di music più bella storia del cinema se non mi ricordo male tanti anni fa quando fece la lista la classifica dei migliori dei migliori musical amici al secondo posto se non mi ricordo male ma comunque è nel gota del meglio del meglio del meglio del musical e poi una un'altra diretta a cui tengo molto è quella su tre registi che causa covid in questo 2021 sono arrivati al cinema in italia o comunque con sui anche sulle piattaforme in italia con due opere ciascuno e cioè ciascun anzi perché c'è anche chloe jao quindi chloe jao che ha fatto nomad e gli eterni che devo ancora vederlo vedrò domenica probabilmente ridley scott con the last duel e house of gucci che vedrò appena uscirà a dicembre e due ovviamente l'ho visto e due film di sottenberg purtroppo usciti in sordina solo su piattaforma e cioè lasciariparlare e sudden move che sta su sky e che è un meraviglioso film uno dei migliori dell'anno quindi tre grandi autori hanno filmato due opere meglio sono usciti al cinema in italia con due al cinema o su piattaforma in italia con due opere ciascuno e quindi mi piace dedicare una diretta a questi sei film mi piacerà dedicare una diretta a questi film con illustri ospiti per parlarne abbondantemente e così poi se ne dovessi selezionare qualcuno per il meglio dell'anno non mi sentirò in colpa di aver trascurato l'altro film di questi registi perché per i 30 migliori dell'anno sceglierò un film per regista come ho sempre fatto e quindi però non vorrei ecco trascurare nessuno di questi sei film perché li reputo anche magari più riusciti meno riusciti ma chi sei importanti secondo me me ne mancano due ciò mi mancano i terni e out of gucci gli altri li ho visti e chi più chi meno insomma meritano parecchia attenzione detto questo vi saluto vi abbraccio iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e soprattutto non dimenticate la cosa più importante che vi direbbe anche marco bellocchio e cioè pedinami